Si sarebbero già svolti nei giorni scorsi tre sopralluoghi da parte di ASL, Polizia Municipale, Ufficio edilizia urgenti richiesti nell'area ex lebole dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Li aveva affirmati il 14 di agosto all'indomani di due fatti che avevano fatto riaccendere i riflettori sul degrado in cui versa l'ex area industriale. Una giovane donna che si era ustionata con un ritorno di fiamma con alcol etilico e un incendio di sterpaglie. La recinzione dell'area come testimoniato dalle nostre telecamere in quei giorni era divelta in più punti e sia gli imprenditori che i residenti della zona avevano confermato ai nostri microfoni l'ingresso e l'uscita di persone dai capannoni dismessi. Di pochi giorni prima un'intervista alla Nazione di Arezzo del proprietario dell'area all'imprenditore Marco Carrara che si diceva disponibile a raccontare alla città i motivi per cui l'area alla fine non ha mai avuto un destino. Di fatto in queste condizioni da 22 anni e le risultanze dei tre sopralluoghi i cui documenti potrebbero arrivare sul tavolo del sindaco di Arezzo a giorni potrebbero aprire un'altra pagina su questa lunga e complessa vicenda.